Allora andiamo a casa di Mirko che dobbiamo fare un piccolo lavoretto poi vedrete e che bella cosa che c'è il problema è che non so se si vuole prima quando mi aveva un problema ora ammesso comunque non so che mi finirà così da 75 anni con un sim ma cerca bene questa arti più bella comunque devo notare come guidano bene a Catania no 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 che cazzo vuol dire dove devo andare guarda che faccio guarda bellissimi diventare uno di questi rubi con la moto penso non abbia sentito guarda che è tutto fun eccolo minchia da muratore direttamente madonna Mirko tutto fare però là c'è un buco nel mur perché c'è un buco tutto fare che dovevi fare andiamo che bellino sei solo tu quello che guarda tu schifo eh chisto vai non c'è niente però non so se dobbiamo uscirlo quello che dobbiamo fare è tutto fare oggi dobbiamo sistemare una cosa alla nuova che dà problemi che si spegne a livello elettronico ma no e qual è? non si sa lo scopriremo direttamente edo è spenta lei direttamente da così e da scotch l'importante è proprio che fattiamo le ricerche excel madonna direttamente questo cartello toglie la sella così intanto quindi il primo step togliere la sella no? ovvio poi togliamo il serbatoio ma vado ma proprio così la fa non è diventato un bel caio visto altro che no non lo dico vado cade in calciavite avuto solo sbagliato però vediamo questo questo è perfetto fidarsi è bene ma fidarsi di Mirko è meglio e non di Patrizio sai che è Patrizio? no cosa fai con il mio dog con l'annaulia ah lui è Patrizio Patrizio lo conosco lo conosci metto così così che compri niente vedete fai tutto questo lavoro anche nella mia moto no? c'è ferro per prendere questo pezzo ma non ci riscire nella mia moto perché? e allora quello pezzo si venghi sta parlando guarda il codino cosa cosa? guarda quel po' lo cadino accostati va perché non lo cambiano il codino? ah perché sai devi fare i grafici ah no dopo aver speso 800 euro ma mi sito io poi mettiamo le petaline poi me le mettiamo petaline ciao mi sposto ormai ecco lo smontato la mia moto qual è il pezzo? questo è qui la bobina nella cammina vediamo se è vero ma devi farti un giro a terra metti direttamente pulitissimo vedi? si aspetta aspetta piano piano la cangura tu sai come puoi rimetterlo? tu sai come rimetterlo qua? si aspetta però poi i fatti parlano direttamente direttamente prendiamo la leve con la cattina questo per alzarlo dobbiamo alzarlo lo sistemi non dovrai cambiare questo non c'è adesso non può essere addirittura non c'è Non si. Non si vuole un'attivata. Non si vuole un'attivata. Non si vuole un'attivata. 6 and a half hours later E allora, siamo giunti alla fine, la moto non parte, la moto non parte, non capiamo il motivo, un colano aperto, secondo te cos'è stato, quindi racconta come sono andati bene i fatti, secondo me, come sono andati bene i fatti, fammi vedere un attimo la cosa, la mascherina, se qualcuno ne sa di più di noi, no, 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 perché è bianca? Piano, 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 ma schifo, ma zitto, ma cammina, ecco il bello, ecco questa cosa che ti ha fatto un'ombra alla moto, può essere, può essere, perché tu l'hai messa, l'ho messa e ci sentivo puzza di bruciato, sentivo molta puzza di bruciato, e niente, dubbi, possibilmente, niente, qui è l'accensione che si deve cambiare, l'accensione è l'accensione, è andata così, vabbè, io cambierai anche il codino, no? Tanto finanziare a Matteo Calvisi, o finanziare a Ugo Di Cano, o i Madò, finanziare a i Madò, che bella, qui si, fermo, che l'ho messo apposta lo scotch, Va bene, va, e anche però... Cosa abbiamo fatto oggi? Ma perché mi devi inguadrare la possibilità? Va bene, ce la va. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.